Gianni Pacca Agnella è uno dei pescatori professionisti di Santa Margherita Ligure. Lavora sul suo impavido dal 1985. La notte della mareggiata ha messo in salvo la barca che però ne è uscita piuttosto malconcia. È stato a pensarti dopo un incubo che abbiamo fatto 4-5 ore che pensavamo di lasciarci la pelle. Poi siamo stati aiutati, poi ci ha salvato un marinaio, è stato salvato dalla capitaneria. Io e l'altro dai vigili del fuoco sono arrivati dopo, è stata una nottata che prima che ce l'ascordiamo sarà dura. L'impavido è un vecchio rimorchiatore di 17 metri del peso di 65 tonnellate costruito a Pietraligure nel 1946. È stato successivamente adattato a Peschereccio circa 30 anni fa. Al mattino io pensavo che non fosse neanche più a galla quando l'abbiamo abbandonata perché invece era ancora a galla, luce accesa, è tutto a posto. Abbiamo sempre fatto la pesca qua, soprattutto la pesca del gambero e siamo sempre andati bene. I danni per l'impavido ammontano a 40 mila euro. Pacaniella non si è perso d'animo e ha deciso di rimettere a posto il suo peschereccio appoggiandosi ai cantieri Castagnino di Lavagna. Ma la difficoltà è stata quella di trovare anche chi sapesse fare il lavoro con legname di queste dimensioni. Sono una ditta che viene giù da Molfetta, sono degli operai veramente in gamba e vengono a fare il lavoro di lì. Questo legname qua che è Quercia e Mogano, abbiamo preso tutti questi pezzi già storti per metterli meglio nella poppa e sono andati a prenderlo a Napoli perché qua il materiale così grosso non se ne trovava qua in giro. Ci vorrà ancora un mesetto, forse anche meno, e l'impavido tornerà a navigare. Per forza, bisogna ripartire. Cosa facciamo? Non si può fare altrimenti. Lavorare bisogna lavorare. La barca merita di essere riparata anche perché d'altronde non si può fare altrimenti. Cioè, di demolire non si può demolire, bisogna andare avanti.